Grazie Presidente, ringrazio anch'io il collega Anderson per questa iniziativa col contributo di tutti i gruppi e di tutti i relatori al testo finale adottato in Commissione. Io credo sia davvero importante la posizione del Parlamento europeo che, per essere chiari, non discute e non critica in quanto tali le sentenze della Corte, sempre legittime, ma cerca di reagire ai problemi di interpretazione della direttiva di Stacchi che in parte sono posti da queste sentenze. È falso immaginare che in questa iniziativa di reazione si nasconda una diffidenza nei confronti di alcune libertà fondamentali, come quella della libera prestazione delle attività di impresa oltre le frontiere che noi intendiamo salvaguardare pienamente, così come si intende salvaguardare il principio di una sana, trasparente competizione. Quello che non è accettabile è una competizione che possa fondarsi sul vantaggio del dumping, una competizione che possa essere drogata dall'illusione di poter violare alcuni principi fondamentali, come quello della libera circolazione di impresa e fra questi quello di non discriminazione, che al di là di ogni arzigogolo interpretativo si fonda su una sola verità. Non deve esserci alcuna disparità di trattamento fra i lavoratori con riferimento al Paese di prestazione, siano essi in distacco, siano essi immobili, indipendentemente dalla loro nazionalità e ciò che è legittimo, anche sotto il profilo del diritto di sciopero, nei confronti di un'impresa nel Paese di prestazione, deve essere altrettanto legittimo nei confronti di un'impresa che operi in regime di distacco. Riteniamo che un altro modello di Europa sarebbe rifiutato e guardato con sospetto e che la libera circolazione riguardi anche i principi e che ogni deroga in questa direzione è anzitutto un danno all'Europa, prima ancora che all'interpretazione di una specifica direttiva. Grazie.